Sshh, quale è? Ciao ragazzi, come andai a campo scuola? Tutto bene, però ci sei mancato. Dai, speriamo che l'anno prossimo vieni pure tu. Dai Mirko, non ci pensare. Piuttosto andiamo a fare la riunione per domenica per il coltire. Ehi Mirko, spegni il computer che ti dobbiamo parlare. Che c'è ancora papà? Lo so che è una decisione che non condividi, ma domani dobbiamo iniziare il trasloco. E come farò con i miei amici? Ma dai, sicuramente ne troverai di nuovo. Dai su, prepara le sue cose. I just wanna lay in my bed. Scusami, sei� di 이러almente. No, 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 no. C'è ancora capito. If they head right, biggie there, hey like pop-up in school Since days are under rules, never lose, never choose to Scusa, ma, c'è vista, guardi? Cittina, problemi? No, compa, lascelo fotte, mi fumo, Scusa No, no, non fumo Non fumo, fumo, fumo! Dai, fumo! Beh, Mirko, è traslocato Sì Sì. E come ti trovi nel nuovo quartiere? C'erano dei tupacci, fumavano, bevevano, mi hanno minacciato, mi hanno chiesto se volevo fumare e ho detto no, ci sono messuti a ridere. Ma è gente di strada, non è come noi, cosa ti aspettavi? Non è adatto a te quel posto, tu hai bisogno di noi, la tua vita è qui in oratorio. Sì. 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 Se non ci hai dovuto fare i miei nonne è beda il quartiere di domenica. Sì. Sì! Sì! Ci vuole l'abbierrata, ci vuole! Sì, perché quando fai vinto di parlare, o ridi... Cos'è il menù pesci? Guarda, quando dici ora, tu non vuoi parlare! No, stava parlando! Sono di noi! La tua vita è qui l'oratorio! Era di protagonista! La tua vita è l'oratorio! Sì! Quando fai ci colpiamo nella telecamera! Scusate, me lo ho detto! Mi ricordare insieme la camera! Non so quello! Non è verissimo! Votora! Azione! Non è adesso a te quel posto! Tu hai bisogno di noi! La tua vita è qui l'oratorio! Stop! No! Questa eria! Questa eria! Questa eria! Capizzi